Vado a prendere i supplimi, tocca a frizze, vado a prendere i supplimi, tocca a frizze, vado a girare gli gnocchi dei samolini. Tavolo 25 qual è? Tavolo 25! L'ho sentito tutti tranne voi, è tutto un supplimento, è quasi una testa. Ci stiamo candidando a liberare Roma con trasparenza, onestà e con una squadra di persone che possa finalmente dimostrare che questa città merita di meglio rispetto al clientelismo e al malaffare di Roma Capitale. Torniamo a fare in modo che Roma sia la capitale dell'onestà e non dell'omertà. Ce la possiamo fare con il contributo di tutti. 114! Vado! I politici mangiano, noi invece diamo da mangiare, per cui dateci una mano e sosteneteci. Bellissima serata, aspettiamo sempre più persone, qui ce ne sono già tantissime. Siamo pieni di entusiasmo, questo significa che anche senza soldi pubblici, ma con tanta passione, tanta onestà e tanta voglia veramente di cambiare, si fanno veramente grandi, grandi cose, grandi progetti per questa città. Mi raccomando, vi aspettiamo sempre più numerosi. Io sto facendo tutte margherite. Sì, sì, sì. Ah, ti devo fare la buona? 100 milioni, grazie. Questo? Pizza, ragazzi! Quale margherite? Forza! Due margherite! Grazie! Questo è il nostro modo di finanziarci. Servendo i cittadini, i cittadini ci danno una mano, li facciamo mangiare e loro danno un contributo per metterci al servizio dei cittadini. Ecco che cosa tocca inventarsi per prendere soldi, perché noi li prendiamo chiedendoli, altri li prendono mettendo le mani nelle tasche. È meglio questo piuttosto che rubare. Le persone se ne stanno andando, noi siamo un po' stanchi ma felici perché è sempre bello stare in mezzo alla gente, soprattutto vedere le persone che vengono qua per mangiare, per stare con noi e per darci un contributo economico che ci fa sempre piacere perché noi non prendiamo soldi pubblici. È vero che stai con la davetta? Ah no, sì. Finanziamo così, noi del Movimento 5 Stelle. Voi dateci una mano perché se riusciamo a finanziare con micro donazioni tutta la campagna elettorale avremo un unico lobbista, il popolo romano, via il Movimento 5 Stelle. Una serata bellissima, come potete vedere, questo è il nostro modo per finanziarci, continueremo fino al 30 che ce lo permetteranno e poi al 5 si vota, Virginia Raggi. Un papegno così però, eh? Eccoci, il sindaco che ti serve, siamo tutti presi tra foto, servire, portare, chiacchierare, raccontare un po' chi siamo, cosa facciamo, il programma, questo è come a noi piace stare tra la gente, questo è anche il modo con il quale ci autofinanziamo, continuate a seguirci, aiutateci, ce la faremo, ciao!